L'operazione è stata coordinata dalla Procura di Firenze ed ha portato ad arresti eccellenti. Si tratta del ramo d'inchiesta collegato a quello che portò nel 2013 al sequestro della Trivella, chiamata Monnalisa, quella degli scavi della TAV a Firenze. A compiere materialmente il blitz tra Roma e Milano, i Carabinieri del Rosse nel Mirino figura la gestione illecita degli appalti delle grandi opere. Quattro gli arresti e ben 50 gli indagati, ai quali si contestano, secondo quanto riferito dall'Agenzia Anza, i reati di corruzione, induzione in debita e turbativa d'asta. Gli inquirenti hanno messo in luce, si legge nelle ordinanze di custodia cautelare in carcere, un articolato sistema corruttivo che coinvolgeva dirigenti pubblici, imprese e aggiudicatarie degli appalti ed esecutrici. Tra i quattro arrestati il superdirigente del Ministero dei Lavori Pubblici, ora consulente esterno Ercole Incalza. Gli altri sono gli imprenditori Stefano Perotti e Francesco Cavallo e Sandro Pacella, che di Incalza è collaboratore. Tutte le principali grandi opere, in particolare gli appalti relativi alla TAV ed anche alcuni riguardanti l'Expo, ma non solo, sarebbero state oggetto dell'articolato sistema corruttivo messo in piedi dalle persone arrestate ed indagate dalla Procura Fiorentina e dai militari del ROS. E sempre l'Ansa apprende da fonti vicine all'inchiesta che le ordinanze di custodia cautelare eseguite sin dalle prime ore del mattino sono state accompagnate da perquisizioni di uffici pubblici e sedi di società riconducibili alle persone coinvolte. Sempre secondo quanto apprende l'Ansa, tra gli indagati figurano anche dei politici, non sarebbero però personalità di primo piano del panorama nazionale.